Stop all'attività per un giorno. Saracinesche abbassate per un locale di Via d'Azeglio nel quartiere oltretorrente, il cui personale è stato sorpreso l'altra notte dagli agenti della Polizia Municipale a vendere bevande alcoliche da asporto e non per il consumo all'interno dello stesso negozio. Il regolamento in vigore prevede il divieto di vendita di alcolici da asporto tra le 22 e le 6 del mattino. L'attività commerciale colpita è un negozio di prodotti alimentari di produzione propria. Un provvedimento analogo era già stato adottato lo scorso settembre e per il periodo di tre giorni. Prosegue dunque l'opera di controllo da parte della Polizia Municipale nella zona calda della Movida Parmigiana. Nel mirino dei vigili ci sono anche le soste selvagge, la musica alta e l'abuso di alcolici, situazioni che spesso, anche di recente, hanno portato a raffiche di sanzioni. Non mancano in oltre le polemiche di residenti ma anche di molti gestori di attività commerciali. Nel mirino il degrado e la sporcizia della zona, dell'oltretorrente frequentata dal popolo della notte e anche da molti pusher, una zona nella quale non di rado si verificano purtroppo episodi di tensione e anche di violenza.